L'ordine del giorno in questione contempla un'ipotesi praticamente impossibile, e cioè che una maggioranza in preda ad un fenomeno di ordinaria follia di massa riacquisti tutto ad un tratto la ragione. E come dovrebbe avvenire questo? Cioè che valutando gli effetti applicativi delle disposizioni, parliamo della cosiddetta norma ILVA, cioè valutando per esempio che togliere di qualsiasi effetto gli atti di sequestro della magistratura potrebbe comportare la morte dei lavoratori, valutando questo, mettiamo per un attimo che il Governo verifichi che effettivamente il Movimento 5 Stelle aveva ragione. D'altronde non sarebbe la prima volta, forse non sarebbe l'ultima, praticamente accade quasi sempre che quando noi abbiamo portato avanti una battaglia in Parlamento, poi questa battaglia, valutando gli effetti delle porcate che avete portato avanti, quella battaglia si dimostra assolutamente fondata. Allora, mettiamo che ciò accada, il Governo si impegna a tornare indietro sui suoi passi, si impegna a stabilire che l'interesse strategico nazionale, l'attività produttiva a tutti i costi, effettivamente deve fermarsi. E allora io chiedo al Governo e alle comparse, mi permetto di dire che oggi lo rappresentano qui. Presidente, se per favore può... Stavo intervenendo, grazie. Vado avanti, onore Bonafede. Non capisco qual è il problema. Onore Bonafede, vado avanti, gentilmente. Presidente, vado avanti e vado avanti spiegando un termine che ho utilizzato. Dicesi comparsa persona che è presente soltanto come presenza fisica e che non dà nessun contributo in nessun termine. Oggi per me il Governo è rappresentato da tre comparsa... Sì, però parli sull'ordine del giorno, onore Bonafede, sia gentile. Grazie. D'altronde, Presidente, non dubito che nella parte di emiciclo in cui sede il PD ci sia difficoltà a comprendere che quindi... Onorevole Bonafede, la prego, si attenga all'ordine del giorno. Le sono rimasti due minuti e ventitré. Grazie. Sì, grazie, Presidente. Voglio precisare che per me questo è un aspetto molto importante, il fatto che ci sia una parte dell'emiciclo che si batte per i diritti dei cittadini e tutta l'altra parte che fa la comparsa, lo ribadisco. E aggiungo, e su questo punto finisco, che se qualcuno volesse smentirmi, ovviamente noi saremmo lieti di ascoltare degli interventi sul merito capaci di dimostrare che abbiamo torto. Ritorno al punto. Allora, nel momento in cui il Governo si accorge che è il provvedimento ha cagionato dei danni, perché l'ordine del giorno è molto chiaro, cioè chiede al Governo di valutare gli effetti applicativi e immagino che lo farà. Quante volte il Ministro della Giustizia, a proposito per esempio della norma sulla responsabilità civile dei magistrati, ha dichiarato apertamente pubblicamente che avrebbe fatto una sorta di tagliando dopo un numero di mesi per valutare gli effetti applicativi di quel provvedimento. Perché in questo caso chiedo al Governo non è possibile valutare gli effetti applicativi della norma e valutare che se per caso morisse qualche lavoratore di troppo a causa delle porcate che state portando avanti, forse è il caso di tornare indietro sui propri passi. È semplicemente questo quello che chiede l'ordine del giorno in questione. Non un pentimento a prescindere, ma un pentimento basato sulla constatazione di una norma che è stata sbagliata. Anche per un attimo mettiamo legittimamente sbagliata, incolpevolmente sbagliata, ma sbagliata. E allora in quel caso il pentimento sarebbe d'obbligo, ma Presidente il pentimento implica una coscienza e da queste parti se ne vede molto poca. Grazie.